Un giornalista, o meglio il giornalista per eccellenza, questo era Renato Moro, un professionista autentico dotato di stile, garbo, pazienza, sincerità. Un giornalista che animato da passione e conoscenza è arrivato a ricoprire il ruolo di vice direttore del quotidiano di Puglia, senza dimenticare però la propria gavetta, diventando costantemente punto di riferimento per tanti giovani colleghi che anche grazie a lui hanno superato le difficoltà che una professione come la nostra non risparmia. All'improvviso però il treno della sua vita ha subito uno stop, quello stop definitivo, che purtroppo non risparmia nessuno. E così da un minuto all'altro Lecce è stata privata senza preavviso di una personalità brillante e guida sicura, che getta nel panico soprattutto chi, come Renato, ha sempre visto un porto sicuro. Ad appena 60 anni Renato rascia i colleghi, la moglie Annarita, i figli e tutti quelli che li volevano bene. Intorno al dolore della famiglia si stringe tutta la redazione di Antenna Sud.